Giacciucci, le feste di Palazzolo come erano prima della guerra? Che cosa? Le feste di Palazzolo, San Paolo, San Sebastiano? Sembrusciarri, con l'illuminazione fin di San Paolo e fin di San Paolo 14 mesi. L'illuminazione ho usato come la chiamavano. Lo sapete tutti i cannelli all'umato? Da destra e da sinistra. Tutti i cannelli che cavavano nel palazzo dopo. Lo sapete perché adesso? L'era che si metteva qua sotto la vicina. E c'avevano tutte le colonne, le campagne di abbandono. Ma capito? Con tutte queste cose. I torci come un banale, bello. Sempre c'è stato... Avevano avuto... Avevano avuto un impegno, anticamente. Ma ora... Avevano rinforzato... Quasi, quasi... Cosa camminavano qua. San Martiano. Con San Paolo. Sì. Ognuno. Io mi vedo qui di San Paolo. Ognuno che vuoi. Ma prima c'era un accadimento. Ci spiegavano i bambini. E quando santo stava... E quando i bambini in a trezzo ce lo comandavano. Ma appena i bambini si rimettevano, i bambini non facevano altro. Ci facevano regare la musica lì. E cosa succede? Il carnevale invece? Il carnevale era per tutti. Buono magari. Ma maggiormente ognuno avevano sempre posto al quartiere. Ma come lo facevano? Negli anni venti? Sì. Allora il tuo fascista come lo facevano? Guarda, sì. Una cosa difficile. Uno aveva addio. Contemporaneamente. Uno aveva addio. O ne aveva due. O signorino... Io non avevano. Ad esempio. L'altra stessi andavano con l'acqua. E alla stessa esterna. E allora stessi andavano. E io ero un rapieno. Uno era un rapieno a pulso verso la discesa. Che c'era le coste chiamate... Ma si chiamava. A un miaglio conたい malin. Era un rapieno in rinforza. E da un rapieno. Prima di cominciare al municipio. dopo la piazza di San Marziano ci festevano, uno da sotto, uno a Cusco, uno a Ciazza e uno a Ciazza. Che anno era? Quattro, quattro, quattro. E poi quando vedeva i signori da sotto, non lo volevano fare sì, quando lei c'era la tua piazza, lei non voleva. E in Gianara? Non lo ricordo. E si usava quando ero ballato sui tempi? Io sì sì. Ma io sì sì. E dove? In Gianara, infatti ballavano lì, c'erano i gramofoni, ma maggiormente tutti venivano a fare i biorai, in spedale, al salvezionale, a... Inverniere, adottori? Come si chiama? Adottori. Sì sì. A voi altri a quelli che costumi c'erano? Oltre a quelli che costumi c'erano, come si vestivano? Tutti in maniera. C'erano belle maschere, piccole, grandi, con un visto tagliasinello. Ma si usava a sfidare, in maschera? Sì 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 sì. Insomma, per il solito venivano tutti la perla, gli ucchieri e tutti questi banchetti. venivano una sera, come stavano tempo, venivano qui d'entrata. Certo, guadagnavano, e loro si guadagnavano. Beh.